Bella raga qui Danifra e oggi stiamo dando un'occhiata alla Golden Chest in Terraria La Golden Chest può essere trovata in diverse caverne, nel dungeon e anche sulle flotti in Island Può contenere dai più semplici ai più ricercati item nel gioco E una volta svuotata può essere distrutta e anche raccolta La Golden Chest nel dungeon e sulle flotti in Island richiedono una Golden Key Che potete trovare sempre nel dungeon e poi potete usare per aprire queste ceste con un lucchetto sul davanti Che sembrano un po' differenti Come potete vedere adesso mi è appena stata droppata la Golden Key da uno scheletro Sulle flotti in Island sono presenti item molto più rari come la Star Fury Una spada di colore rosa che quando attaccherete farà cadere delle stelle cadenti di colore rosa dal cielo E questo può essere molto utile quando provate a battere un boss come Skeletron Che è molto debole delle stelle cadenti e avete molti più colpi con cui colpirlo Se volete sapere di più sulle Golden Chest vi lascio nella descrizione un link alla wiki Così potete leggere tutta la descrizione sulle Golden Chest e tutti gli item che ci sono dentro di esse Spero che questo video vi sia piaciuto E con questo vi saluto Bella raga qui Danica Grazie a tutti Grazie a tutti